Musica D'improvviso Cosenza si è ritrovata inondata di acqua per via della pioggia, la città è caduta giù in maniera forte e copiosa, in un attimo le strade principali della città sono diventate impercorribili, con sommazzini completamente allagato, così come magazzini e negozi posti al piano terra. Per ore e ore l'acqua è venuta giù a catenelle rimbalzata immediatamente come consuetudine per ogni avvenimento sui social. Foto filmati post hanno invaso la rete come le richieste di intervento di cittadini impossibilitati persino ad uscire dalla propria auto. Tale e tanta è stata la forza di quella che viene definita una bomba d'acqua. L'ARPACAL ne ha misurato la quantità in 12 mm in 15 minuti ed in alcune postazioni il livello ha raggiunto i 25 mm in un'ora. I centralini del comune sono stati presi d'assalto. Una squadra di tecnici della manutenzione guidata dall'assessore De Cicco si è attivata per liberare i tombini intassati e aiutare i cittadini in difficoltà. Vi do anche il mio numero di telefono 333 86 89 579 se volete segnalare e siamo a vostra completa disposizione per i vostri servizi. Volevo anche dire che noi ogni anno facciamo la pulizia dei pozzetti. C'è una squadra di manutenzione che le fa ogni anno dove sulla mia pagina vengono sempre pulizizzati ma purtroppo quando succede un evento del genere straordinario con queste piogge forti non chiami inermi. Problemi ovunque in tutti i quartieri. Anche la scuola Don Milani de Matera ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Ha allagato anche l'area del cup dell'ospedale dell'Annunziata. Insomma non è una novità per Cosenza trovarsi di improvviso con strade e quartieri allagati. Ogni qualvolta infatti un temporale di portata eccezionale si abbatte nel centro urbano si registrano sempre le stesse difficoltà. L'assist chiaramente di quelli comodissimi nel senso che bisogna ricordare quelli che erano i vertici calcistici del numero 10. Questa notizia ci arriva proprio per dire che in Calabria, più o meno sul bagnato. Questa è la Calabria impreparata perché al netto della dichiarazione dell'assessore De Cicco che ovviamente equivale alla nostra solidarietà e alla nostra stima. Perché no? Il problema è che probabilmente è un problema di manutenzione atavico perché per quanto si possa dire che i tombini vengano puliti un problema deve esserci perché sì, è stata una bomba d'acqua, ma non si possono veramente registrare il lungo e il largo perché poi bisogna scendere anche sul Tirreno-Cosentino, tra Paola, Belvedere, sono stati ingenti danni e soprattutto momenti anche di panico. Questo non è nella normalità perché certamente il clima sta cambiando e bisogna anche interpretare soprattutto questo tipo di situazioni da un punto di vista meteorologico perché probabilmente, grazie anche alla mano dell'uomo, si verificheranno anche più spesso. Sappiamo che ormai il nostro clima è diventato di tipo tropicale, si passa infatti, come abbiamo visto, dai 41 gradi a questa che poi è stata questa bomba d'acqua che è durata, diciamo, intensamente per fortuna anche poco ma che poi è un maltempo che è durato e si è portato per quasi 48 ore sulla nostra zona. Mentre vi stiamo trasmettendo, le temperature sono risalite, quindi certamente non è questa la buona notizia. Ma ricapitolando ciò che accade in settimana, partendo dall'Europa ma anche dalla nostra nazione c'è un ragionamento da fare su quello che probabilmente è l'anello debole di questa nostra società da un punto di vista economico ma anche culturale, da un punto di vista della prospettiva, da un punto di vista dello sviluppo, dal punto di vista di credere nella nazione, credere in chi ci amministra perché l'adeguamento dei salari partendo dai tetti minimi salariali che riguarderà l'intera Unione Europea è certo qualcosa che metterà nel giro di 48 mesi, speriamo anche meno, 24, l'Italia di fronte anche ad una decisione importante rispetto a quello che è un cambiamento auspicato da troppo tempo cioè l'adeguamento rispetto anche agli altri paesi dell'Unione Europea di quelli che poi sono gli stipendi e i salari, rispetto alle diverse professioni ovviamente, ma che non in questo momento certamente garantiscono ai monoreddito, parliamo di famiglie, di arrivare nemmeno a un terzo del mese successivo, il che vuol dire che non ci può essere prospettiva di sviluppo economico quando la middle class soprattutto, per non parlare poi di quelle che sono le classi più diseggiate, non riesce ad affrontare nemmeno le spese che sono le spese correnti per potersi mantenere, per poter sopravvivere. A questo ovviamente bisogna aggiungere ciò che sta accadendo rispetto ai caro prezzi di carburanti, di spesa, a quello che arriva dalle conseguenze nefaste che è stata prima la pandemia e ancora gli oltre 100 giorni di guerra che stanno segnando quel mondo e soprattutto il vecchio continente dell'Europa da un punto di vista socio-culturale perché questo è certamente un punto del non ritorno e bisognerà cercare di tirare le fila e di capire in che direzione andremo. Per tornare in Calabria oggi è una giornata di tornata elettorale in tantissimi comuni importanti da Catanzaro, scendiamo e arriviamo a Palmi, risaliamo a Paola, ma tanti, veramente tanti sono i comuni e ci sono quelle che probabilmente sono le situazioni di cartello politico con le formazioni di centrodestra e di centrosinistra in alcuni casi schierate, in alcuni casi molto fastagliate e confuse, ma certamente ne capiremo qualcosa in più a partire dalle 14 di lunedì, quindi di domani, quando partirà la nostra trasmissione per quello che riguarda poi i risultati elettorali più importanti e soprattutto che seguiremo in diretta in tutta quanta la regione. Partiamo con la trasmissione e a proposito di quello che incide molto sulla vita di ciascuno di noi, parliamo di caro prezzi. E così in pochi mesi anche lo sconto applicato dal governo mediante il taglio delle accise è stato riassorbito e vanificato dal mercato. Lo sconto di 30 centesimi aveva camminato i prezzi dei carburanti, riportandoli su livelli comunque alti, ma ben al di sotto i 2 euro al litro. Dopo un primo immediato rincaro nel mese di marzo, i prezzi si erano stabilizzati per poi riprendere a salire costantemente fino a sfiorare nuovamente il picco nei mesi scorsi. Il self questa mattina è diesel 1929, il super 2029 e diesel più 2029. L'asservito sono gasolio 2139, super 2239, diesel più 2239. L'ipotesi di mettere al bando il petrolio russo potrebbe aggravare ulteriormente la situazione facendo stabilire nuovi record insostenibili per le tasche degli automobilisti. Di fronte ai nuovi rincari il governo non si è ancora espresso, ma la sottosegretaria dell'economia Maria Cecilia Guerra ha descritto un nuovo intervento come molto probabile. Con l'aumento dei prezzi aumenta anche il gettito dell'IVA e il governo non intende metterlo nelle casse dello Stato, ma usarlo per abbassare le accise e tenere calmierato il prezzo. La proroga dalla misura scadrà l'8 luglio. Un nuovo taglio costerebbe altri 2 miliardi. La richiesta dell'Associazione dei consumatori è di ridurre il prezzo di ulteriori 10 centesimi. Io non credo che lo faranno perché già se loro mettono questi 30 centesimi che hanno tolto si arriva già quasi a 2,40 euro. Quindi penso che sarà veramente insostenibile poi insomma far fronte a questo. Anzi io penso che con questi prezzi dovrebbero togliere altre accise. Anche se le accise che hanno tolto al momento le abbiamo anticipato noi i gestori perché ci hanno chiesto diciamo le giacezze tutto quanto per avere poi un rimborso o qualcosa. Però fino in questo momento non abbiamo avuto nessun rientro. In un paese come l'Italia dove l'85% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada l'aumento record dei prezzi di benzina e gasolio ha un effetto valanga sui costi e le imprese sulla spesa dei consumatori. Lo rileva col diretti in riferimento al balzo record del costo dei carburanti. Il nuovo record dei prezzi dei carburanti sottolinea l'organizzazione agricola si trasferisce sulla spesa con un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli energetici. A subire gli effetti e l'intero sistema agroalimentare dove i costi della logistica arrivano a incidere per un terzo sul totale dei costi per frutta e verdura. Si chiama la protesta delle pentole vuote ed è una mobilitazione nazionale che ha visto scendere in piazza le associazioni dei consumatori per un sit-in di protesta contro l'aumento dei prezzi e il carovita. Dopo l'assemblea unitaria dello scorso 6 aprile che ha visto la partecipazione di migliaia di delegati di tutte le regioni, oggi la manifestazione nazionale per dire stop ai rincari che mettono in ginocchio milioni di famiglie. Ormai è una corsa agli aumenti sull'energia elettrica, sul gas, sul carburante, sui beni alimentari, su una serie di servizi. Se poi consideriamo che il reddito delle famiglie calabresi è molto più basso rispetto alla media nazionale ci rendiamo conto di quanto questi aumenti per i calabresi diventano dei costi veramente insostenibili e diventano delle deprivazioni. Parlano di corsa al rialzo le associazioni, fenomeni speculativi che stanno creando disuguaglianze, povertà energetica e povertà alimentare, la pentola vuota come simbolo della difficoltà delle persone e delle famiglie che faticano a far quadrare il bilancio. Un dato su tutti, oggi la benzina è a 2 euro, nonostante l'intervento del governo questo è un dato sotto gli occhi di tutti. Poi parliamo anche di nuovi indicatori che hanno contraddistinto anche la regione Calabria che è la povertà energetica. Oggi quindi non si parla più di povertà alimentare, di povertà educativa ma adesso si aggiunge un altro indice che è quello della povertà energetica. Ora capite bene che rispetto al discorso iniziale che abbiamo fatto, il suo solito filotto iniziale di ragionamento su quella che è la situazione, questa è una situazione veramente grave, le pentole vuote più che un simbolo sono una concretezza, una realtà nella nostra regione e bisognerebbe preoccuparsi perché sento parlare a destra e a manca, è proprio il caso di dirlo, qualora ancora ci fossero la destra e la manca, che si provvedrà a tutto il PNRR, questo miracolo avverrà e resusciteremo da questo barato profondo in cui siamo caduti, ma dubito fortemente. Dubito fortemente perché sono molteplici i problemi che affliggono la Calabria e quello del lavoro ci auguriamo possa essere risolto quanto prima anche perché costringere la nostra Nazione a delle regole da parte di tutto quello che è l'impianto normativo che arriva dall'Unione Europea potrebbe essere forse la svolta giusta, la pressione fiscale su quelle che sono le paga dei dipendenti continua a restare a livelli altissimi e questa è una cosa grave, ma cambiando argomento ma certamente non regalandovi buone notizie c'è un problema importante in vista anche di quella che sarà la prossima stagione estiva ma anche la ripresa in generale economica della nostra regione e quindi far leva sul turismo e il problema si chiama depurazione. Nuova protesta dei residenti al quartiere d'Ido di Catanzaro costretti a sopportare il cattivo odore del depuratore situato a ridosso del quartiere. In tanti sono scesi in piazza per chiedere una soluzione al più presto. Sotto il caldo sole di giugno circa 200 persone hanno partecipato alla manifestazione spontanea caratterizzata da striscioni, cori e anche qualche momento di tensione. L'aria del quartiere, ci dicono, è irrespirabile. È un mese e mezzo che abbiamo puzza infinita notte e giorno nelle nostre case, soprattutto nel rione Corace e poi per tutta l'Ido, tant'è che tanta gente comincia a rendersi conto che è un problema molto molto grave. Il depuratore va spostato da Catanzaro-Lido, assolutamente. Vogliono fare delle riparazioni, modificare in loco. Noi non ci stiamo, quindi in loco non deve essere più, deve essere spostato il depuratore in ogni caso e in ogni momento. Noi lotteremo per questo. Basta questa puzza, noi cittadini di Lido non ce la facciamo più. Ci vuole un nuovo depuratore, magari nella zona di Virghello, come magari d'altronde era già stato previsto. Per cui questo si mette a posto e si deve attuare un progetto per un nuovo depuratore. Minacciano di salire sul tetto della struttura i dipendenti e l'impianto pubblico per il trattamento dei rifiuti di Bucita a Rossano. Lamentano la proroga della Cassa Integrazione a Rotazione è destinata a 18 lavoratori della società di gestione che hanno subito una riduzione dello stipendio con gravi conseguenze riguardanti i contributi previdenziali, il trattamento di fine rapporto, le ferie, la tredicesima e la quattordicesima. La misura è stata attivata nel mese di febbraio e proseguirà fino al 27 agosto prossimo. Un'altra motivazione del malessere lavoratorio è la riduzione dei conferimenti nell'impianto che l'azienda avrebbe assecondato. Il sistema dei pagamenti continua ad essere imperfetto. I comuni non versano i loro quote all'ambito territoriale ottimale della provincia di Cosenza. La società vanta crediti con lato e riduce i conferimenti da circa 140 tonnellate a 60 e anche l'organico. Il comune di Corigliano Rossano conferisce rifiuti in altre discariche e attende di diventare centro di costo al posto di Cosenza, decisione che dovrebbe arrivare dalla regione del lato. Nel frattempo però la protesta continuerà e rischia di diventare più clamorosa. Quindi andiamo incontro ad un'ennesima estate, quella del 2022, abbiamo da una parte il problema della depurazione, ma pensate poi anche a una miopia, che ritengo essere una miopia di carattere politico, programmatico, di visione complessiva, perché chiaramente il quartiere Lido è un quartiere dove sono stati fatti anche notevoli a modernamenti di quello che è il lungomare, reso agibile, con delle strutture e infrastrutture importanti proprio per lo sviluppo del turismo. Ma pensate che nello stesso quartiere la gente lamenta il fatto che da 40 anni è costretta a vivere con un odore nauseabondo, per cui chiedono ma come mai si è pensato di non collocare un depuratore in una zona diversa da questa. Poi passiamo certamente ai rifiuti e passiamo ad una zona importante della Calabria che è quella di Corigliano Rossano e anche qui come vedete la situazione non cambia perché purtroppo i lavoratori sono in protesta. Perché? Perché sono sempre l'anello debole della catena, insomma, dei rapporti di pagamento, dei ritardi rispetto ai conferimenti e quindi questo ovviamente non fa che esagerbare gli animi di già gente che per fare il lavoro che fa guadagna veramente molto poco. A loro ovviamente parla nostra solidarietà e speriamo che la situazione possa risolversi, ma per restare in zona Corigliano Rossano c'è un'allarme che desta ancora ulteriore ben altra preoccupazione che è quello relativo alla criminalità. Spari nella notte, omicidi e ferimenti, agguati, risse, pestaggi, furti nelle abitazioni, rapine agli esercenti commerciali e già 32 auto date alle fiamme dall'inizio dell'anno. Non è rassicurante la mole di dati associati agli eventi criminali che si stanno registrando negli ultimi mesi a Corigliano Rossano. La popolazione ha paura e chiede aiuto e sostegno concreto alle istituzioni e alle forze dell'ordine. Oggi si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per la Sicurezza. Presenti il prefetto Vittoria Ciaramella, il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio e i vertici delle forze dell'ordine. Decise una serie di misure che porranno il territorio sotto uno stretto controllo 24 ore su 24, ma serve anche alla collaborazione della cittadinanza. Alla gente dico ancora una volta, come ogni volta che intervengo, noi cerchiamo di essere credibili e dobbiamo essere sempre credibili. Voi fidatevi delle istituzioni e denunciate, perché se denunciate, se ci date una mano, se collaborate, queste persone che commettono delitti avranno più probabilità di trovare quel cittadino che stavolta non volta lo sguardo, che dice alla volante che cosa ha notato e per loro diventa più complicato. Noi volevamo dare un segnale di attenzione e vicinanza alla popolazione di Corigliano, perché era necessario che l'apparato statuale rappresentasse la vicinanza, la presenza dello Stato, per dire quello che effettivamente già noi facciamo costantemente, ma era necessario e abbiamo acquisito da parte dei consiglieri comunali la volontà di collaborare, di trasferire questa richiesta di collaborazione che le forze dell'ordine e lo Stato fa ai cittadini, di collaborare e di credere nella presenza dello Stato e delle istituzioni. Siamo qui, tutto il Comitato, anche la Procura della Repubblica, perché noi collaboriamo tra di noi per far sì che i cittadini possano fidarsi, devono collaborare e devono denunciare. C'è sicuramente una situazione di criminalità organizzata, ma molti episodi che si verificano sono frutto della criminalità, di una criminalità diffusa e di una necessità di intervenire su un piano culturale per far sì che alcuni episodi effettivamente di criminalità diffusa possano essere eradicati agevolmente. Certo, sono belle le parole del Prefetto di Cosenza, è chiaro che però bisogna intervenire sul piano culturale, è una parola, è una frase. Il problema è che ci sono delle azioni che portano a intervenire sul piano culturale e soprattutto, nonostante un plauso incredibile a quella che è l'attività delle forze dell'ordine, c'è da dire che poi, perché i cittadini possono fidarsi e denunciare, dovrebbero essere aiutati anche in tal senso, che è un problema sì culturale, ma che è anche un problema molto pratico, perché poi vediamo in quante bolle di sapone si risolvono tantissime denunce e tantissime situazioni, rendendo poi inermi e anche un po' non protetti le persone che si ribellano anche a questo sistema. Quindi bisogna certamente attendersi e noi auspichiamo e rivolgiamo questo appello a tutti quanti noi, a noi calabresi, di rivolgersi alla magistratura, di denunciare. Però è chiaro che lo Stato una mossa in più, un passo in più, anche forse due, deve farlo per cercare di tutelare le persone che vogliono vivere in maniera retta e cercare di costruire una Calabria migliore. Ma a proposito di Calabria migliore, uno dei problemi atavici è quello della sanità e sappiamo che in questi primi sette mesi ha incassato il tanto agognato titolo di commissario della sanità in Calabria, anche se comunque auspichiamo che un domani migliore non preveda un commissariamento della nostra terra, ma ho chiudo intanto, oltre a fare il governatore o presidente come piace a lui, è anche commissario della sanità e ha incontrato un ministro per parlare di rendere più appetibile, con più appeal, come si dice in questa fase della nostra vita, la sanità calabrese e quindi cercare di accattivarsi le simpatie dei medici, visto che abbiamo tantissima carenza di personale. L'incontro di lavoro tra il sottosegretario della salute Andrea Costa e il presidente della regione Roberto Chiuto al quinto piano della città della regionale a Catanzaro termina l'ora di pranzo, il sottosegretario si dice fiducioso sulla sanità calabrese e ai cronisti indica i tempi per la presentazione dei progetti del PNRR. Noi come governo abbiamo dato il 30 giugno come termine alle regioni per presentare tutti gli investimenti relativi al PNRR e quindi su questa tempistica ovviamente ci raccorderemo e da lì inizierà un percorso che vedrà mettere a terra queste risorse importanti anche ovviamente per la Calabria. E il presidente però arriva a ridettagli in termini di risorse e di strategie per attrarre il personale sanitario. Abbiamo integrato le risorse del PNRR con altri 19 milioni di euro della regione per avere più presidi di assistenza territoriale, più case di comunità, più ospedali di comunità. Il tema è che poi questi presidi vanno riempiti di medici, di infermieri. Nella scorsa settimana ho parlato con il ministro Franco e stiamo lavorando, i miei uffici stanno lavorando a meccanismi che facciano, che diano la possibilità ai medici di avere incentivi economici e di carriera, così come avviene per i magistrati, i poliziotti, i carabinieri che vengono in Calabria e che siccome è zona disagiata hanno appunto dei benefici ulteriori. Perché non deve valere anche per i medici? Dobbiamo provare a creare dei contesti per far tornare ad essere attrattivi i territori come la Calabria e altre realtà del nostro paese e qui credo che la politica debba fare uno sforzo per, ripeto, trovare soluzioni in modo da creare attrattività nella consapevolezza che poter disporre del personale è l'atto fondamentale. I buoni ospedali, i grandi ospedali sono tali con un grande personale, un grande personale medico, quindi quello è l'obiettivo e dobbiamo creare le condizioni affinché anche i medici si sentano attratti per venire a lavorare in Calabria. Intanto le rata corrige perché Costa è sottosegretario e quindi vabbè, ma in realtà è un facente di funzione, è un vice ed è importante poi ribadirlo. Dall'altra poi questo tentativo di cercare di rendere fascinosa la sanità in Calabria, certo che è difficile rispetto a quelle che sono anche le strutture, le infrastrutture, le dotazioni tecnologiche e soprattutto le situazioni nella quale poi i medici sono costretti a lavorare, le abbiamo sentiti più volte denunciare assolutamente una carenza di organizzazione dovuta anche ad una mancanza di personale, di filtro e poi soprattutto al fatto che sono rimasti gli hub a far da sentinelle su tutto quanto il territorio perché mancano gli ospedali di prossimità. Ora, per quanto poi si possa provare, non vorrei essere certamente io a rivoluzionare questa, a tirarmi soprattutto delle antipatie, ma come si può pretendere di rilanciare la sanità in Calabria assumendo medici non specializzati, quando il problema della nostra sanità, soprattutto della migrazione sanitaria in Calabria è legata all'assenza di alcune figuri che rendono importante poi rispetto ai salvavita, cioè a quelle malattie, a quelle patologie che necessitano di interventi specialistici di alta specializzazione e quindi di alta scuola. Ma detto ciò, cambiamo argomento e parliamo di un'altra situazione che è annosa, ha voglia a cambiare nomi, a inaugurarla in Pompamagna, l'ultimo che l'ha inaugurata facendo un viaggio finto, farlocco, è stato l'allora premier Renzi, perché si cambiava nome da A3, è diventata A2 e ha cambiato pure nome, ma la sostanza, signori miei, non cambia, vediamo. E' l'autostrada l'infrastruttura più utilizzata per attraversare la nostra regione, quell'autostrada che, inaugurata più volte, è sempre presentata come affidabile e sicura, poi però troviamo sempre intassata da cantieri. Sembra una vera maledizione divina, basta un semplice viaggio da Cosenza a Reggio per toccare con mano le difficoltà di chi ha la sventura di aver scelto di utilizzarla, o forse la scelta perché non c'è un'alternativa vera a percorrerla. Sono decine i cantieri, piccoli e grandi, che si incontrano sul percorso, quasi tutti con pochissimi operai a lavoro, alcuni senza che si comprenda davvero che tipo di intervento si stia facendo. Forse sono tratti sequestrati dalle diverse procure a seguito di incidenti, tratti sotto perizia e che non vengono riaperti con celerità. E poi in questa stagione ci sono anche le doverose operazioni di sfalcio dell'erba che cresce copiosa lungo le carreggiate. Tutto questo porta, come ci viene segnalato ogni giorno da molti telespettatori, ad avere tempi di percorrenza insostenibili. Le file e le code sono ormai abitudine consolidata e in tanti ci scrivono, ma invece di decine di microcantieri, non sarebbe possibile concentrare il lavoro su una specifica area, terminarlo e poi passare ad un'altra zona? E perché la manutenzione che viene effettuata su altre autostrade non appare così invasiva? Sono interrogativi che purtroppo, siamo sicuri, non troveranno l'attenzione giusta e non avranno una risposta. Speriamo che almeno per i giorni caldi degli esodi e controesodi le cose possano migliorare. Intanto non possiamo che raccomandare a noi stessi di essere prudenti. Certo, l'unica cosa attraversando quella che è diventata, da quella del sole a quella del Mediterraneo, è la prudenza. La prudenza perché comunque bisogna camminare con grande attenzione, soprattutto bisogna camminare quando si potrà camminare, perché non si può fare. Questo tratto è un tratto di strada che io sono costretto a fare più volte a settimana ed è veramente angosciante, semplicemente l'idea di mettersi in macchina, soprattutto perché, come diceva Francesco, è stato qua in questo servizio, che ringraziamo. è difficile da capire perché ci sono dei cantieri dove nulla, nulla accade o quando accade. Sono veramente tante, poche le persone che lavorano che non si capisce perché il tratto è così grande di strada che è quello chiuso, è così enorme, è dismisurato rispetto all'intervento che stanno facendo. Tant'è che noi vogliamo investire sul turismo, che noi vogliamo puntare sul turismo, ma nonostante la negatività. Sentite quello che è accaduto nel ponte del 2 giugno in Calabria, almeno questo dicono i dati. La Calabria ha superato la prova generale in vista dell'estate. Il ponte del 2 giugno ha fatto registrare un promettente afflusso di turisti. Nelle due città simbolo di Diamante e Tropea c'è la soddisfazione dei primi cittadini che si stanno organizzando per attrezzare al meglio le proprie città in vista proprio della stagione estiva. Il mare, questa volta almeno a giudicare dai messaggi ricevuti dai nostri telespettatori, ha retto, nel senso che solo in alcune località la temuta chiazza galleggiante ha fatto la sua comparsa. Abbiamo voluto approfondire, ascoltando dalla viva voce dei primi cittadini, come è andata veramente. Partiamo da Diamante, dove il sindaco Ernesto Magorno si esprime così. Tanta gente negli alberghi, tanta gente nelle case, nei B&B, nelle seconde case, tanta gente nei ristoranti, tanta gente nel centro storico che ha visitato i murales, insomma veramente un buon viatico per la stagione turistica che sta arrivando. Gli operatori erano soddisfatti, sono soddisfatti, ci auguriamo che i prossimi weekend, prima dell'arrivo pieno della stagione turistica siano così pieni, così pieni di gente, così come ci ha fatto registrare questo posto. I nostri turisti sono stati a mare in questi giorni e mi pare che è andato tutto bene. Dal Tirreno-Cosentino alla Bella Tropea, fiore all'occhiello del turismo calabrese, anche qui il sindaco Giovanni Macri dice che non poteva andare meglio. Un anticipo d'estate in senso stessa, abbiamo avuto numeri da Agostani, dopo due anni ce lo meritavamo, dopo due anni di tirare la cinghia di sofferenza e di incertezza, vuoi per la crisi finanziaria che comunque stiamo vivendo, vuoi per le problematiche internazionali legate al conflitto in Ucraina, c'era tanto timore, tanta apprensione, alla fine però è stato scongiurato tutto, la gente ha voglia di partire, ha voglia di fare vacanza, ha voglia di mare, il cambio ha aiutato molto sicuramente, ha giocato un ruolo importante, abbiamo fatto numeri, ripeto, incredibili, quindi ho accrezzato il ruolo di questo mare stupendo che in linea con quello che è il mare a giugno, è un bellissimo mare. Certo, è chiaro che però poi non bisogna ciurlare nel manico, nel senso che il successo registrato da questi due sindaci, da Diamante e a Tropea, va bene perché poi la gente è arrivata, bisogna porsi anche il problema di come la gente arriva, di come la gente poi ritorna perché in previsione del fatto che qualcuno possa scegliere di tornare in Calabria c'è da considerare il tutto, anche come ci si arriva in Calabria e giustamente come il suggerimento del buon Luca Chito che sta dall'altra parte a muovere i tasti ma anche a fare questa scaletta del nostro settimanale che condivide pienamente con il sottoscritto, c'è da dire poi e da aggiungere che non è soltanto un problema della tutta del Mediterraneo ma tutte le altre grandi arterie, la 106, la 107, la strada delle Terme che ovviamente da guardia riporta sull'autostrada e quindi verso Cosenza ma in generale verso sud e verso nord, è veramente un disastro. Chi ha provato nel ponte del 2 giugno ma anche ancora prima, la settimana prima, grazie soprattutto a un banale incidente che ha causato anche tre ore e mezzo di fila. Ogni strada, al di là del fatto che è un Calabria che comunque non ha grande possibilità perché non c'è una grande manutenzione, di contenere soprattutto il grande traffico veicolare, è ridotta veramente a uno stato in cui la gente poi diventa un po' matta perché dice ma perché? Io mi devo rilassare e questo non è possibile. Detto ciò speriamo anche questa, una cartolina che noi inviamo direttamente al nostro Presidente Occhiuto perché possa intervenire anche con Anas relativamente a quello che abbiamo detto prima, ai cantieri, ma che temporizzazione hanno? Ma quando finiranno questi lavori? Qualcuno, va la pena che glielo chieda. Chiudiamo invece con un servizio relativo all'economia perché pare che l'export calabrese sia cresciuto. Buone notizie per la Calabria aggiungono dall'Istat che racconta attraverso i numeri che nei primi tre mesi dell'anno la nostra regione ha fatto registrare nella voce export una crescita del 56,6%, addirittura tra le performance più positive riscontrate dalle altre regioni del paese. Insomma, detta così, verrebbe da dire che la Calabria ha imboccato la strada giusta e può guardare al futuro con moderato ottimismo e così lo abbiamo chiesto a Francesco Aiello, professore di economia dell'Università della Calabria. L'incremento delle esportazioni calabresi del 56% registrato nel primo trimestre del 2022 rispetto al 2021 merita un'attenzione sia perché è molto più elevato rispetto a quello del periodo pre-Covid, ma anche perché proviene dalle dinamiche settoriali che caratterizzano un po' il sistema produttivo regionale. In particolare i settori a maggiore dinamismo sui mercati internazionali sono il settore dell'agricoltura, il cui incremento è dell'export di circa il 37%, il settore dell'alimentare, quindi dell'agribusiness che fa registrare un volume di esportazioni pari al più 27% rispetto al 2021 e il settore del legno, le cui esportazioni aumentano del 41%. Prima di mostrare ottimismo però occorre che questi dati trovino conferma nei trimestri successivi, anche perché le esportazioni calabresi pesano poco sia rispetto alla dimensione del PIL regionale sia soprattutto al volume delle esportazioni nazionali. Comunque rimaniamo una regione che esporta soltanto lo 0,1% del volume delle esportazioni dell'Italia. Ottimismo sì, ma cautela attendendo conferme nei trimestri successivi. Certo, se al netto delle chiacchiere la politica investisse di più sul lavoro alimentare, lo diciamo da una vita, ci siamo quasi stancati nel continuare a ripeterlo, su un progetto culturale che poi possa coniugarsi con il turismo e quindi con le bellezze naturali, quelle che ci ha donato Madre Natura e che noi cerchiamo di returpare ma nonostante in tutto continuano a insistere e a resistere, nonostante noi, ecco questo è il caso di dirlo, allora probabilmente questi dati potrebbero crescere, dati che sono non entusiasmanti ma che sono certamente incoraggianti. Ora detto ciò, augurandovi ovviamente di trascorrere questa giornata di weekend nel migliore dei modi possibili, il nostro augurio, il nostro auspicio soprattutto è quello che voi possiate uscire da casa nei comuni dove si può esercitare il diritto di voto ed andare a votare, perché è importante poi essere partecipi, perché non ci si può lamentare senza partecipare a quella che poi è l'azione che è l'unica che ci è consentita, che è quella di scelta, sia essa giusta o sbagliata, ma poi sarà il tempo a dircelo, ma intanto usciamo dalle nostre abitazioni e andiamo ad apporre la nostra preferenza su quella scheda che deciderà poi chi dovrà governare nel futuro le città della Calabria e sappiamo che c'è un turno elettorale molto importante. Noi vi diamo appuntamento nella prossima settimana, però chiaramente cogliamo l'occasione data questa notizia che è quella di chiusura, di dirvi che da domani lunedì alle 14 ci sarà quella che poi è il risultato, la tornata elettorale anche in Calabria, ma soprattutto anche il dato certamente del referendum nazionale, ne parlerà in studio il nostro direttore a Tio Sabato con un ricco parterre di ospiti e con i collegamenti da quelle che poi sono le città simbolo rispetto a questa tornata elettorale. Non cambiate canale, questo è il 12.10 Tele Europa Network, 24 ore al giorno, tratti G e approfondimenti.